Chi è? Polizia! Chi me lo dice che è la polizia? Dopo che le ho sparato faccia esaminare il proiettile, avanti, apri. Non fare il guastafesta, andiamo, scantiamoci un po', facciamo il tappo, il brutto e il cattivo. No, 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 sentite per favore, per... Oh, Cristo! Ehi, 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 sentite, non credete che dovrei avere una pistola? No! Voi mi dovreste conoscere, signori, ho una pessima reputazione. Qualche volta ho degli eccessi di follia come adesso. Ma dove cazzo eri? Lavoriamo in coppia? No, perché non mi hai seguito qua giù? Perché non mi hai seguito qua giù? Tronzo, ero sette piani più su! Uno, due, tre, fante, cavallo, e... Io non so mai che cosa mi va di mangiare da un giorno all'altro. Ho coraggio, io sono un bellissimo poco, non è possibile. Lei è fortunata, io ci devo vivere con lui. Io non so mai trovare da un giorno all' Grazie a tutti.